Riaprirà lunedì prossimo il centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella. Il comune ha disposto alcune limitazioni vista l'emergenza Covid-19 che hanno come priorità quella di evitare gli assembramenti. Tutti gli utenti dovranno rispettare sia le procedure che le misure di sicurezza. Il centro di raccolta sarà aperto soltanto il lunedì e il giovedì, dalle 8 alle 13, dalle 14 alle 18. Sarà consentito conferire solo i rifiuti ingombranti e i RAE. Potrà accedere al servizio solo chi farà la prenotazione telefonica al numero verde Dasti oppure al fisso 0934 5847 09. Dasti garantirà la presenza di disinfettante per l'igienizzazione delle mani degli utenti all'ingresso. Gli ingressi saranno sottoposti a controllo per evitare gli assembramenti. Gli utenti invece dovranno utilizzare il servizio solo in caso di effettiva ed indifferibile necessità. I rifiuti dovranno essere già differenziati e correttamente suddivisi presso l'abitazione dell'utente che una volta giunto al centro di raccolta dovrà occuparsi esclusivamente del conferimento. Evitare gli assembramenti, mantenere almeno un metro di distanza sia dagli operatori che dagli altri utenti. Utilizzare obbligatoriamente mascherine e guanti. Sarà importante attendere il proprio turno rimanendo all'interno dell'abitacolo del proprio veicolo a motore spento fino a che l'utente poi precedente non abbia completato le operazioni di scarico e si sia distanziato. Le misure sono mirate a tutelare la salute degli utenti e del personale d'asti e a prevenire gli eventuali abbandoni stradali dei rifiuti.